Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video sulle Speed Builders Siamo su Mineplex in compiania di Ejakulo Rollo Ciao a tutti Questa non si può sentire E ovviamente se Ejakula ci vuole qualcuno su cui diciamo espletare la funzione Per cui abbiamo una signorina quest'oggi e si chiama Giada Marci Giada Marci Giada Marci Cos'hai da dirci Giada? Ciao Ma non cambia voce scusa Ah è il Wither che hai partorito lì Giada Come sei veloce Giaco subito Tagfic Già uscito tutto quanto Guarda questo qui è l'altro via di Marci invece Eh questo è Madaporci C'è tutta una famiglia Vabbè allora metto anch'io il mio Vediamo Io guarda mi metto il carrello in testa Perché fa figo Comunque ragazzi Con questo carrello in testa bellissimo Vi voglio dire che non so se portare più le Speed Builders Fatemi sapere se vi fa piacere rivederle ancora sul canale Chi è che si è messo davanti che non vedevo nulla Cazzo di macello c'è raga Cazzo c'è Sherro le sfere del drago Comunque fatemi sapere se ne volete vedere altri Se no potrebbe essere l'ultimo Speed Builders Che comunque faremo con molto piacere Perché a me il gioco piace veramente tanto Ed eccoci partita ragazzi La mappa fatta da giovani Classico Guardians Lake Mi raccomando se vi piace la serie Supportate con un like E fatemi sapere La risposta alla domanda che ho fatto prima Allora i fiori vanno qui La domanda è Ma i fiori sono rossi o sono blu? Minchia ma sei dal tonico pesante allora No ma che era una battuta sul fatto che Allora Io ho capito No ma non ce ne bisogna di spiegarla Marci Cioè se non ci arriva Anche la mia era una battuta Ragazzi 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 Fatto perfect match Vabbè questa era semplice dai Io non l'ho fatto Come Marci non le fa aperte? Era ogni due il Era uno sì o no le punte diciamo Ok perfetto Ho sbagliato il fiore Sì sì Anche io io volevo sbagliare Manca qualcuno Dalla perfezione Ne manca uno I fiori mancano Dicono l'altro Uno ne manca Verrà eliminato Wildman Wildman ha sbagliato Ciao Wildman Mi spiace Però Cos'hai sbagliato? Hai fatto un disastro Caro Nerox Caro Nerox Cos'è? Caro Nerox Caro Nerox Caro Nerox Ti scrivo GG Beh mica tanto GG Amico Sei stato eliminato subito Però Complimenti Bedroom Oddio le ceste qui sono semplici Ci sono i letti Il tavolino Ok Ok ho capito più o meno Credo Vero Allora questo Doppia ceste Doppia ceste Qua c'era una ceste Così a intervalli C'era prima la doppia cesta o la crafting? La crafting adesso A sinistra e poi la cesta C'era solo un piccolo errore? Vabbè abbastanza semplice anche questa Dai Alla fine Io sono partito dal tappeto Ok Abbiamo fatto tutti perfetto raga Oh madonna Una ciliegia Una ciliegia Sì Ok ho capito Qua c'è l'incrocio Che è un po' Strano Quindi è Ok questo è così E questo è così Non è proprio semplicissimo Da ricordare Non mi ricordo come era il noto C'è il Eh infatti è quello il casino Fatto fatto Uh tutti perfetti Eeeh vabbè raga ma In che lobby siamo? Sono finito sott'acqua tra l'altro Questa qui è sempre quella più difficile che ho mai fatto Sempre Sempre vado in confusione con questo raga io Allora così Mi serve un attimo un appoggio Così Così E faccio così Così Poi pam E così Bam Bam E bam Già detto bam Bam Così Eeeh Merda Raga mi avanza una Mi avanza una foglia Come erano le staccionate? Tutte sopra? Sì sì ma mi avanza una foglia Perché mi avanza una foglia? Questo è un grosso problema Marci Devi guardare in che lato ti manca Prova a sbirciare Perfetto Perfetto raga Non ci arriesgo e ho messo un centesimo Ho perso io raga Ah sì no ma è sbagliato Ma è non dove attaccarlo Da una parte era attaccato alla strada Eh sì 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 L'altro era senza 95 Il blocco qui andava dall'altra parte No verso quello là No grande Marci si salva Ma a me è per uno Eh 95% È proprio giusto Ci sta Ci sta Di un blocco è sbagliato Di un blocco Oh madonna Dio Ok Cos'è? Qua è alto 4 Oh lol Ci sono una serie di stelline Ok credo di aver capito Credo Sì più o meno Ci sono 5 pezzi di È alto 4 hai detto? Sì Quindi parte da qua 5 tutti e 5 devi farlo Sì sì Tutti e 5 in fila Sì giusto Ma è tipo una croce raga? Sì sotto una croce E poi era Facciamo una croce anche in cima E dovrebbe essere fatta Fatto Questo nero Che sei velocissimo eh È velocissimo ed è bravo E che hai fatto? Raga che hype Mamma mia Sta bellissimo Ne manca uno Ha sbagliato tutto L'ha fatto più piccolo Eh non ce l'ha fatto Ha perso Ha perso No no Uno l'ha sbagliato guarda Mi sa che è caro Caro Mi spiace caro Sei eliminato Caro Caro mio Caro mio Ci saluti Quello veloce raga No era Nerox Quello veloce No Nerox è veloce ragazzi Vedate Nero Caro Nerox Caro Nerox Ciao caro Ma sono Nerox Secondo me è adesso una cosa difficilissima Siamo noi Nerox e Gian Secondo me è una bandiera No no dai È lungo da fare questo Allora blu Rosso giallo Blu rosso verde giallo Blu rosso verde giallo Raga mi avete fatto dimenticare tutto Blu Rosso Il rosso dove stava Vicino al verde cosa ci stava ragazzi Ti vi prego ditemi Verde Eeeh Non so come dirtelo A destra del verde Il giallo vero A destra del verde Niente scusa Raga il blu qua Se lo devi farlo giusto Che casino Raga qui Si può essere veloce quanto vuoi Ma chi lo finisce sto coso Merda merda Vai Si non l'ho finito mai nella vita Raga Ho perso io Ho perso io Io l'ho invertiti No ho fatto giusto io No spiaccami a sbagliare 73 io Io 70 Io 70 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Eh amica ma l'hai fatto bene Io ho perso tempo Ho perso tempo Mi avete Queste sono le cuffie Headphones Ciao Favvj Ma le cuffie sono roba sua Marchio registrato Marchio registrato Ok Giusto Si Vai su di uno Marzi No 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 così Marzi Ho sbagliato E' alto E' alto E' così bravo Perfetto Vai ma Eh bravissimo Vai Vai Manca uno Perfetto Fatto raga Avevo sbagliato in inizio Che ansia Ragazzi nere Vedo ansia Oh madonna Qua c'è No raga questo non l'ho mai fatto 1 2 Ho fatto 5 di 6 C'è tipo una cornice E' alto 6 raga Mi dice qualcosa Eh non lo so 5 6 1 2 Sì sì Alto 6 Raga ho sbagliato tutto No non fare così Marzi Ma dove è il bianco dove va il bianco Eh c'è al centro di lato al centro Va bene raga Io lo faccio così Metti il vetro Metti il vetro Lascia lo spazio dentro No forse è troppo così Perfetto perfetto Attenzione è tra Marci e Nerox Nerox non l'ha finito No Marci fuori No Marci No Marci Non puoi dirmelo 83 ho fatto No Marci Mi dovevi eliminare Nerox Ma Nerox l'ha fatto Ah no l'aveva fatto Nerox Raga Ma stiamo scherzando Non è difficile Iaco Eh sì Iaco Eren No è Molto facile È lungo Sappi che è il doppio salto Ricordati sta cosa No Eren Non perdere tempo E non è facile come pensi tu Ok Ok No Bravissimo Ma l'ha già finito Nero L'ha finito Ci va il rosso in mezzo Bravo Eren Dai che c'hai 4 secondi Hai vinto Eren tu Comunque ce la fai Oh quasi perfetto Mi mancava lo zombie Ah no aspetta Il canestro Il canestro è più in alto Sbagliato Sbagliato No però quello che è sbagliato Sì lui ha sbagliato un po' di roba Però non è detto Oh Brian Raga no Contro Nerox Mi dispiace ma è troppo veloce Questo Nerox li sa tutti Li sa tutti Ecco Sì Ciao Io contro lo Nerox Vi dico se è un po' sospetto Non è da screen Comunque non è uno che fa screen Perché è FMI È bravo è bravo a giocare Sì sì È proprio bravo Non lo dubito È veramente velocissimo Eran è veramente velocissimo Il tempo per farlo ce l'hai E sei davanti a lui adesso Sei molto più veloce di lui Però devi ricordarti come si fa Sali sui quattro cose Se non ci arriva in cima qua Come perfect ha fatto Perfect All'ultimo raga Sudore, sudore E il simbolo di mineplex Mi confondo con questo coso Ce l'ha Fai la striscia nera E poi fai quattro Deve essere di alta quattro la n Sicuro No, di lì no Mi sembra che la prima era alta quattro O sbaglio, Jaco No, alta quattro e mezzo era alta tre Due Tre, sì Quindi così, arancio Ok, lì è alta quattro, Eren No Ma già finita quella la quattro No, lì è alta quattro, il primo No, è così raga, è così No, è così, così Ha sbagliato Ha sbagliato Ho sbagliato Ho quasi fatto perfetto Quasi fatto perfetto Ha sbagliato tantissimo lui Raga, no Non ci credo No l'ansia Sto cadendo nel vuoto Non vedo niente Non vedo niente Nerox eliminato Nerox eliminato GG Mamma mia Raga Si finisce in bellezza Partitona Questa serie sugli speedbuilders Sempre che voi non la vogliate ancora GG Nerox fino alla fine mi ha fatto sudare sangue Però si è vinto Grande, grande raki Grande E quindi ragazzi Per questo video è tutto Ringrazio i buon Eiaculo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Guarda Jaco Jaco non ho appena messo un like Cosa ci dici? Ah godo Ecco ragazzi Quindi mettete tanti like Perché donerete una vita sessuale molto felice a Jaco Non ho sentito Marci A 12.000 like Eren farà una challenge sessuale Ok Poi li vedete questi due che sono venuti qui Io scommetto Che Non ci conosco Youtube Due punti Si sono no youtuber Però te non mi segui Che cazzo te ne frega di venire qua a fare lo screen Però vabbè dai lo facciamo Non lo facciamo più lo screen Ok Perché ovviamente non sono Iscritti Non sono blazers Sono gente a caso Che dice Oh no youtuber Sapessi che roba Sono gassers Comunque Ringrazio anche Giada Che è già scappata Perché penso che l'auto sia finita Per tutti Bella E Che ha partorito un bel witter prima Quindi fateli tutti gli auguri Hashtag Auguri Giada Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Se volete altri video Sulla speed Fatemelo sapere Con un commento E io Per adesso Direi che è tutto Quindi vi saluto Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti